Com'è questo caffè? Ragazzi è uno spettacolo, secondo me è il caffè più buono della fiera, provatelo, venitela cremoso. La posa a caffè non è mai stata così speciale, con miscele pregiate e selezionate, cialde, capsule, macinato, estratti e tanta passione, caffè cremoso è presente con il proprio stand all'ottava edizione del Levante Prof. La fiera internazionale B2B dedicata ai professionisti del settore enogroalimentare che si svolgerà in fiera del Levante a Bari fino al 15 marzo. Stiamo ricevendo tanti consensi, il caffè piace, l'espresso napoletano è un caffè rinomato in tutta Italia e in tutto il mondo e quest'anno in fiera stiamo avendo tanti consenti e tanti riscontri positivi. La fiera di Bari quest'anno la troviamo migliorata, con tante più persone rispetto agli anni precedenti, ma anche proprio in sé per sé, nell'organizzazione e in tutto ciò che può farsi di ottenere poi una fiera che dia soddisfazione a tutte le persone che siano presenti. Con caffè provenienti prevalentemente dal Brasile e dal Centro America, Caffè Cremoso opera delle selezioni di caffè molto accurate con i più grandi degustatori nazionali e internazionali per ottenere e acquistare i migliori raccolti sul mercato. Tra i vari caffè che acquistiamo compriamo anche gli speciality e siamo tra le prime aziende di caffè a Napoli ad introdurre i caffè speciality e a fare un caffè diverso nell'ambito anche delle caffetterie. Il segreto del successo di Caffè Cremoso, oltre che nel suo sapore inconfondibile, è senza dubbio l'esperienza tramandata di padre in figlio di oltre 130 anni. Quattro generazioni che con amore e passione hanno imparato le antiche ricette con l'obiettivo di far conoscere il caffè napoletano riconosciuto come l'oro di Napoli in tutto il mondo. In soli tre anni il brand è tra i marchi più presenti sul mercato napoletano. L'azienda continua a crescere e i progetti sono ancora tantissimi. I progetti aziendali abbiamo rilevato un nuovo stabilimento a Pozzuoli, a Napoli. È uno stabilimento storico di famiglia di mio zio. Quindi trasferiremo là il sito produttivo, la distribuzione, l'assistenza tecnica e ci saranno anche un vero e proprio corso di formazione a 360 gradi per quanto riguarda sia la formazione della caffetteria in ambito di caffetteria e in ambito del latte art, per riconoscere anche dei caffè di qualità, quelli meno qualitativi e a far sì di poter seguire tutta la filiera produttiva dal raccolto fino all'espresso finale del nostro esercente bar. Noi seguiamo tutta la filiera produttiva facendo corsi di assistenza tecnica ai baristi che lavorano con caffè cremoso, corsi di latte art, assistenza tecnica per avere sempre dei macchinari efficienti e affinché poi si possa ottenere il meglio dalle nostre miscele di caffè.